Buongiorno ragioniere, tanti cari auguri per il suo compleanno. E' stato felice per questa sorpresa che le hanno fatto i colleghi? Buongiorno, molto contento, mi hanno lasciato quasi senza parole per la loro grandissima cortesia e il loro affetto che mi trattano in questa giornata. Perché c'è stata questa festa? Perché lei si congederà a fine anno dal comune? Sì, io andrò via dal comune a fine anno per raggiungere i miei visiti di età e mi dispiace dover lasciare sia i collaboratori sia questa amministrazione. Certamente, cosa ricorda con più piacere in questi anni di servizio a Sano? L'impegno fatto prima dai miei collaboratori, poi anche da me, per cercare di essere di aiuto e di ausilio al mio Paese. In questo, naturalmente, grazie alla volontà degli amministratori, soprattutto. e in questa unica amministrazione, grazie al sindaco Rizzamini, che ha reso possibile e che ha dato, diciamo, a tutti i collaboratori, a tutti i dipendenti di ampie possibilità di estrinsecare le proprie capacità e quindi di collaborare al benessere del Paese, a creare quei pressuposti necessari a sottolineare a un'amministrazione, diciamo, al meglio possibile rispetto alle risorse e rispetto alla crisi attuale del Paese. Capisco, poi volevo sottolineare che lei ha partecipato in tutte le manifestazioni con il suo contributo morale, economico, RIF, e tutto quello che poteva accadere a Sano è sempre stato in prima linea. L'ho fatto e continuerò a farlo con vera gioia per il Paese, perché io sono nato, cresciuto, non ho mai trasferito dal Paese, quindi per me questo Paese è alla mia radice, quindi pur avendo girato il mondo, in questo Paese non mi sono mai staccato. Samo nel suo cuore. La vedo profondamente commossa, e questo rende ciò veramente emozionante. Comosso è francamente, diciamo, dentro di me c'è una commozione elevata, proprio per l'affetto dimostrato dall'azienda, dagli amministratori, dai collaboratori, e soprattutto dalle signore che hanno reso possibile queste ore lì. Ma questi sono i risultati, chi si comporta bene nella vita viene solo rilegato da tanto affetto e tanto amore. Noi dello stat.tuttosamo.it ci uniamo agli auguri del Comune e la ringraziamo per il suo servizio che ha fatto in questo Comune. Grazie a voi e mi auguro che continuerete a mantenere e a portare avanti il Paese, illustrarlo, renderlo sempre migliore, sia nei comportamenti della collettività, sia nel miglioramento dei beni materiali e strumentali del Paese. Vuole salutare qualcuno in particolare, in chiusura? Sì, tutto il Paese. Grazie a lei e buon compleanno ancora, ragioniere. Grazie a lei.